Il calcio della Lucchese parla anche al femminile. La squadra rossonera, nata dalle cenere di quello che fu il Filecchio Women, parteciperà al campionato di Serie C in un girone davvero molto interessante a 16 squadre. Ne riparleremo. Intanto, secondo mini-ritiro della Lucchese, affidata a Nazareno Tarantino in Valle del Serchio, un weekend di intenso lavoro con doppio allenamento sia nella giornata di sabato che la domenica. Al mattino, lavoro atletico al Gionimo Scardini di Barga. Nel pomeriggio, preparazione più tecnica e partitella a Roni di Pontellania. Tarantino, che fu attaccante funambolico e di classe, protagonista di stagioni importanti con la maglia rossonera, sta cercando di dare la sua impronta ad un gruppo in parte rinnovato, facendo leva sulla sua grande esperienza, ma anche con la novità di allenare una squadra femminile. Ma, allenare comunque per la Lucchese è un qualcosa di importante. Poi stiamo parlando di una prima squadra a livello femminile, un campionato importante come quello della Serie C, anche se già dall'anno scorso allenavo i ragazzi del 2007, sempre della Lucchese, quindi per me è un onore, visto che sono cresciuto con questa maglia. E poi l'obiettivo è di continuare con le donne, con gli uomini, quello sarà il futuro, a dire dove posso arrivare. Intanto per me mi è stata data una grandissima opportunità e non me la sono fatta scappare perché comunque il calcio femminile sta avendo una grandissima risonanza. Se pensiamo che una piattaforma come Sky ha preso il calcio femminile di Serie A e va a vedere tutte le partite, quindi vuol dire che il movimento intorno al calcio femminile sta diventando un qualcosa di importante. Il campionato inizierà domenica 10 ottobre e sarà preceduto il 12 settembre dal girone di Coppa Italia, dove le rossonere di Capitan Moni dovrebbero trovare Ponte d'Era, Pistoiese ed una tra Rezzo e Spezia. Da lì capiremo di che pasta è fatta la lucchese femminile del Nazza.